Come convertire zip in file originale? Vai su easyzip.com, trova il convertitore corretto, in questo esempio sto usando PNG, ma funzionerà anche per tutti gli altri formati. Clicca e seleziona file zip da convertire per aprire il selettore dei file. Quindi elencherà tutti i file nell'archivio. Fare clic sul pulsante blu anteprimo per aprire il file nel browser. Fare clic sul pulsante verde salva per salvare i singoli file sull'unità locale. Ora è finito. Spero che aiuti, metti mi piace e iscriviti per rimanere aggiornato.